Gentilissimi signore e signori buonasera, è con immenso piacere che vi diamo il benvenuto al concerto del Corpo Battistico Castinese Francesco Solia. Una serata veramente importante, indimenticabile, che rimarrà per tanto tempo scolpita nei nostri cuori e sui nostri strumenti. Immensa ed indescrivibile l'emozione di essere qui con voi in una delle città più belle del mondo, in una delle piante più affascinanti e ricche di storia della nostra bellissima Italia. Ladies and gentlemen, it is a pleasure to welcome you all to the Francesco Solia's Dance concert. This is a very important night for us, almost unforgettable, a night that is going to be engraved in our hearts and in our instruments. I have no words to describe the excitement we are feeling being here with you in one of the most fascinating and important cities, in this awesome square and I will give you the opportunity to give you the opportunity. Thank you. Buongiorno, presentiamo il nostro paese, Cassine, in un piccolo porco medievale di circa 3.000 abitanti, adagiato tra le colline del Monferrato, in Piemonte, nord ovest dell'Italia. Terra la nostra ricca di storia e di grandi vini, coltivati con dedizione tra panorami con zappiato, da poco proclamata l'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Siamo pronti di presentare il nostro paese, Cassine, una piccola medievale di circa 3.000 abitanti, che lia tra i montferrato in Piemonte, in Italia. Il nostro paese è pieno di storia e di famosa ricerca, con una grande risoluzione, con una grande risoluzione, con un'esercizionale, con un'esercizionale. E questi sono i lancari che sono stati presentati a parte del World Heritage by Lesbos. Noi siamo il Corpo Battistico Castinese Francesco Solia. Il nostro complesso musicale è stato ricostituito nel 1991 sulle ceneri della vecchia banda cittadina. Questa sera vi porteremo con noi in un viaggio musicale tra la tradizione italiana e quella internazionale, tra la musica melodica e quella pop e rock, per arrivare alla musica d'autore, e comprimente un tributo al nostro concittadino più illustre. Il cantautore, anzi il compositore come aveva descriversi, Luigi Tempo, nel cinquantenesimo della sua scomparsa. Siamo il Corpo Battistico Castinese Francesco Solia, la nostra cittadina band, che era re-established in 1991 con le ascienze di un'altra band. Questa sera vi porteremo con noi in un'autore musicale, iniziando con la tradizione italiana passata all'internazionale, la musica melodica e rock musica, e arriviamo al final step in un'autore passare all'internazionale, che è un tributo a nostri cittadini, il più importante, il scrittore o il compositore che ha voluto il final step, che ha preso in un'autore di 15 anni da sua morte. Vi lasciamo quindi alla nostra musica, non senza ringraziare prima di tutto i musicisti presenti e i nostri maestri Stefano Odone e Giulio Tortello. Per ora, è il momento di dare la musica, prima di ringraziare tutti i musicisti qui, e i nostri maestri Stefano Odone e Giulio Tortello.